Andrea Di Pre, qui da Lugano per voi, torna ancora una volta all'appuntamento con Catalina, che vuole affrontare in questa trasmissione il tema del motivo per cui ci sono molti tradimenti e comunque molte situazioni, molte coppie sono un po' allo sbando. Sentiamo però questa venere moderna che ha provo a dirvi qualcosa. Allora, innanzitutto, perché ci sono così tante separazioni? Non sempre per i soldi, per gli interessi, per i cavoli dell'uno e dell'altro, eccetera, eccetera, ma a maggior parte per i problemi sessuali. E i problemi sessuali cosa sono? E i problemi dei uomini, che a maggior parte, a loro mogli rifiuta il sessuale orale, oppure, scusate per, proprio la sperma, prendere nella bocca, oppure mandare giù. Eccola. Ci sono invece donne, quelle che non vogliono nemmeno essere oralmente portate proprio all'esaurita, diciamo, ci siamo capiti, no? Tu vuoi dare una lezione oggi, mi sembra di capire, vuoi spiegare, lo insegnare? Esatto, esatto, esatto. A maggior parte proprio perché io sono una donna che piace tantissimo il sessuale orale. E lo so che per tantissimi uomini questo dà fastidio che loro mogli non lo dà, ma non significa che, oh, che io lo do, anzi, sto parlando con tantissime donne, moglie, per dare consigli come cavolo devono fare con il marito. Allora, mi rendo conto, secondo le mie statistiche... Sono lezioni sessuali quelle che vuoi dare, lezioni di sesso, le scuole di sesso, sentiamo la tua lezione di sesso, sentiamo cosa vuoi parlarci di oggi, che lezioni vuoi dare? Eh, che lezione, cioè, prima innanzitutto devono avere la voglia di farla, poi se prendono bene lentamente, piano piano nella bocca, già la prima goccia è quella che esce, è bellissimo, è caldo, è bello, e poi chiaramente non possiamo lasciare a parte le palle, quindi leccare e giocare un pochino con quelle due lì, perché pensano che comunque un uomo sia fatto solo per un uccellino, diciamo, mentre che non è vero, perché ce l'hanno anche qualche altra cosa, ci sono uomini, per esempio a chi piace anche un pochino nel culetto, leccare giocando, cavolo, lo so io, però si può bagnare con il dito, oppure leccando, ma non entrare dentro, non significa che un uomo è gay, oh. Quindi alla fine, se prendi... Il tuo è un discorso molto serio, è chiaro, entriamo in certi dettagli, è normale, si parla di sesso, di sessualità, ma queste cose ve le direbbero anche in un normale incontro con dei medici, penso, no? Non proprio, non proprio, perché i medici non dicono così, assolutamente, non ti dicono nemmeno quella che comunque una donna cosa ti dovrebbe fare per non diventare impotente, oppure non diventare malato, del sesso, qualcosa del genere, assolutamente, non ti dicono niente, come neanche per noi, per donne non dicono, cosa dobbiamo fare? Ognuno si arangia. Quindi, io consiglio per tutte le donne... Certo, sentiamo, ecco. Tu vuoi insegnare che cosa? Dovete sentire il profumo e il sapore del, posso dire, uccellino, per non essere volgare, e andare profondo, leccare, leccare, e poi prendere la bocca e andare giù, su, giù, su, giù, su, piano, piano, poi sempre più fortemente e sempre più velocemente, e vedete dopo, mentre che giocate con le palle e con il dito da sotto, ogni tanto girando nel culetto, e viene il vostro partner, anche se non è messo dentro. Però, dovete, non dimenticare mai, ogni tanto, guardare il vostro partner con gli occhi sessuali, non quello, va bene, non me ne frega, ti amo, va bene, da 30 anni siamo sposati. No. Con occhi sessuali. Giusto, perché comunque... Perché è eccita. No, ma certamente, certamente, questa tua lezione... Quindi tu oggi cosa hai insegnato, sostanzialmente? Qual era il tema, l'oggetto della lezione? Che non devono lasciare i uomini senza godimento, ma il godimento vero. Sì, ma il titolo della lezione qual è? Avrà un titolo? Oggi lezione di che cosa? Di un bel pompino. Scusate. Allora, va bene, se insegnano a fare la cucina, a cucinare, è giusto, tu insegni questo. Nelle prossime puntate di cosa vuoi parlarci? Come leccare la patatina. Beh, cioè, sentiamo, sentiamo la tua lezione su questo tema. Oh mio Dio, adesso... Vabbè, leccare la patatina è un po' complicata. Non devo nascondere che ho leccato anche io. Ma non solo per quello per cui ho leccato io, che ho capito come si lecca, ma anche per i miei desideri. Un uomo... Non devo iniziare mai a citare una donna direttamente dalla patatina. Ma con capezzolo, bacio sul collo, carezzando i capelli, baciando la bocca, giocare con la lingua, giocando con il dito, come facciamo anche noi donne con i uomini. E figurati dopo di questo qua, già l'ha bagnata la patatina. E poi... Leccare, leccare, ma lentamente, piano, piano, il clitoride. Ma lentamente. Non con forza che subito inizi a succhiare, anche se hai una voglia alla Madonna, dico la donna. No! Tu, anche se hai una voglia, sfogati, non lo so com'è. Però è un punto molto delicato di una donna. Puoi giocare con l'aggressività, con punto G, quello che sappiamo dove si trova. Oh! Dentro. Non fuori. E il clitoride si trova fuori. Giusto? Allora, con delicatezza. Ti sto ascoltando, mi piace perché hai un modo così poetico, così liquido di parlare, così fluido di parlare. Cioè, è una rivelazione incredibile. Tu veramente sei una scienziata della comunicazione sessuale. Leccando, immaginate, leccando il clitoride, una bella patatina. E poi, quella donna che ha aperto la gamba avanti a voi, è nuda, sta godendo. Metti il clitoride. Metti il tuo dito dentro nella bocca, ti sta succhiando. E poi, quello del dito, metti su il capezzolo che è bagnato e stai giocando. E poi scendi e metti nella vagina, mentre che stai giocando. Stavo pensando al tuo modo anche di usare termini tratti dal linguaggio medico-scientifico, biologico, anatomico. Complimenti. Quindi entri nella vagina e piano inizia a muoversi, non subito con l'aggressività, ma piano, lo sai com'è. E stai leccando ancora il clitoride. Poi esci con il dito e inizia a mettere la lingua dentro nella vagina. E tu torni con il dito sull'eclitoride. Ecco quello è il gioco della patatina. Sì, ma dopo di questo discorso, perché? Allora, nelle prossime puntate, cosa ci racconterai invece per chi ci segue sul nostro focus sessuale? Cosa vuoi raccontare nelle prossime puntate? Molto importante che ancora non sono arrivata all'orgasmo. No, 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 ancora non ho finito. Quindi, arriviamo al punto finale allora. Ancora due diti dentro e sono bellissimi. Mi ricordo che siamo a Lugano, sono a Lugano a fare queste puntate. Come posso dire che sono a Lugano? Non lo so, sono Lugano, tra l'altro io. Due diti dentro. Già è un uomo duro, di sicuro. Dopo un bel pompino, come ho detto io prima. E ancora non è venuto, forse, perché se è una donna brava, allora non fa venire, dice, appena si sente che sta per venire. Aspetta, vieni giù, eccola. Allora la manda giù e inizia a giocare. E allora inizia questo gioco, è un uomo. E poi, dopo due diti, mette dentro quella che ce l'ha. Mi sa che sentivamo tutti nella nostra vita. È un spettacolo. Però venendo insieme è una meraviglia, veramente. È una meraviglia. Ma devono capire come si fa uno per l'altro. Ma guarda che bel messaggio che hai dato, con un candore, con una limpidezza. Complimenti, veramente. Omnia munda munda. Cioè, tutto è puro per i puri. Complimenti. Se hai veramente, mi ricordi, la Laura di Petrarca. Complimenti, complimenti. Bene, allora qui dobbiamo chiudere. Grazie. Grazie a Catalina per la sua... Buona serata. Per la sua ammirabile... Sessuale. Per la sua ammirabile lezione. Grazie. Ancora i miei complimenti. Seguiteci perché spero vi siano altre lezioni sull'educazione sessuale qui condotte da Lugano, da Catalina e da Andrea Di Pre che come sempre vi ringrazia per l'attenzione e la preferenza. A presto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.